351 82 33 505, segnatevi questo numero, è quello di Ambulanze Veterinare Azzurre di Mantova. Da domani anche i nostri piccoli amici Pelosetti avranno il loro servizio di trasporto verso il veterinario. È un'iniziativa importante per la provincia di Mantova, non c'è mai stata un'iniziativa del genere, grazie ai volontari che hanno dato la loro disponibilità, è da un anno, un anno e mezzo che ci siamo mossi e oggi finalmente abbiamo concretizzato e concretizzeremo il tutto perché da domani parte il servizio. Ovviamente serviva l'ambulanza e l'ambulanza ce l'abbiamo qui dietro le spalle. Ripeto, è un servizio importante e ribadisco è un servizio di trasporto. Noi non faremo mai né i veterinari né porteremo via lavoro ad altri, ognuno ha le proprie competenze, noi ci occupiamo del trasporto e sappiamo che questa è un'esigenza importante manifestatasi da tantissime famiglie, da tantissime persone, diciamo proprio anche negli ultimi tempi. Un'ambulanza attrezzata per servizio di soccorso, trasporto programmato e presidio durante manifestazioni ed eventi. A rispondere alle chiamate i volontari, attualmente una quindicina, che dopo aver avuto tutte le info necessarie partiranno per il recupero del paziente. Noi porteremo il animale, cane, gatto che sia, assieme al proprietario presso la clinica veterinaria che il proprietario ci avrà indicato o più vicina, diciamo, disponibile nel momento del bisogno. E il tutto con, diciamo, un modico contributo economico di rimborso spese del viaggio. L'ambulanza è dotata anche di erogatore di ossigeno, per cui eventualmente anche su indicazione del veterinario in caso di necessità possiamo, diciamo, sicuramente fare un trasporto tempestivo e in sicurezza, soprattutto per l'animale alla clinica, in modo che arrivi nel migliore delle condizioni possibili al veterinario. Un servizio che si va ad affiancare e supportare a quelli già esistenti delle istituzioni. Insieme abbiamo deciso di creare questo servizio, insieme al dottor Nicchio e al dottor Nuvolari, proprio perché la popolazione ha presentato questa richiesta, dato che è un servizio che mancava nella nostra città. Plauso all'iniziativa anche da parte del comune di Mantova, da sempre con un occhio di riguardo agli amici a quattro zampe, realizzando sgambatoi e a breve con il cimitero dedicato proprio agli animali. Che certamente è una cosa molto 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 bella. Vediamo adesso cosa si può fare, chiaramente agevoleremo per quello che è la nostra competenza, questo servizio utilissimo, utilissimo perché chiaramente quando succede qualcosa a un amico a quattro zampe sei nel panico, non sai cosa fare e quindi sicuramente il fatto di sapere che c'è un'ambulanza che ti può trasportare nel posto più vicino, più utile per poter andare in soccorso del tuo amico a quattro zampe è sicuramente una cosa di sollievo, è sicuramente utile. Per cui non so ancora né come né in che misura, ma sicuramente il comune farà qualche cosa per dare una mano a questo servizio importante. Tutte le info sul sito www.ambulanzeveterinareazzurre.it sulle pagine social.